Dopo il rotondo successo interno contro il Torregrotta, la Cireale cerca la prima affermazione in trasferta sul campo del neopromosso Biancavilla. Sfida da non sottovalutare per i ragazzi di Anastasi, resa ancora più complicata dalla decisione del prefetto di Catania di vietare la trasferta dei tifosi Granata allo stadio Orazio Raiti, prevista domani alle ore 15.30. Una decisione legata all'impossibilità per l'impianto biancavillese di ospitare circa 300 tifosi attesi da Cireale. Clima comunque sereno nella società Granata, amplificato dalla soddisfazione del direttore generale Marletta per aver triplicato gli abbonamenti rispetto alla scorsa stagione. Un grande attestato di fiducia per una squadra ambiziosa e costruita per vincere. L'appuntamento di Biancavilla in tal senso è un'importante crocevia per dar seguito a quanto di buono è stato fatto domenica scorsa al Tupparello. Trasferta ancora più ostica quella che invece vedrà il Giarre impegnato questo pomeriggio alle ore 15.30 contro il Palazzolo. I tre punti conquistati all'ultimo istante nella sfida col Via Grande sono stati fondamentali per dare tranquillità e infondere autostima a un gruppo che giorno dopo giorno cresce sotto la sapiente guida di mister Giancarlo Fichiera. Il Palazzolo Formazione, ritenuta dagli esperti tra le favorite alla vittoria finale, costituirà dunque un buon banco di prova per valutare i progressi di Giallo Blu. È probabile che rispetto al Via Grande, patti e compagni si dispongano in campo con un assetto più difensivo, mirante a colpire in contropiede un Palazzolo che tra le mura amiche cercherà di fare la partita.